E' così calmo e tranquillo. Lontano dal rumore del mondo. Dimmi, cos'hai scoperto? Ho trovato due devianti all'Eden Club. Speravo di scoprire qualcosa. Ma sono riusciti a scappare. È un peccato. Sembrava che stessi quasi per fermarli. Sembri assente, Connor. Assente e turbato. Questa indagine è parecchio più complessa del previsto. Tuttavia sono certo che risolverò il caso e fermerò i devianti. Potevi colpire tranquillamente quei due devianti all'Eden Club. Perché non l'hai fatto? I devianti ci servono intatti per le analisi. Sparare sarebbe stato inutile. Se l'indagine non procede secondo i piani, potrei rimpiazzarti, Connor. Io non conto niente. La missione è quello che conta. Sta accadendo. Qualcosa di serio. Presto, Connor. Il tempo corre. Comincia a innervosirmi con quella moneta. Mi scusi, tenente. 79esimo piano. Chalek. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci il suono. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di quattro androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. C'è troppo da fare. Vediamo di controllare. Hanno aggredito due guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. Uno degli addetti è riuscito a scappare. È sotto shock. Non so quando potremmo interrogarlo. In quanti lavoravano qui? Solo due dipendenti e tre androidi. I devianti hanno preso gli umani in ostaggio e trasmesso il messaggio in diretta. Poi sono scappati dal tetto. Il tetto? Sì, hanno usato dei paracadute. Dobbiamo capire dove sono atterrati, ma il tempo non aiuta. Se vuoi dare un'occhiata al video trasmesso dai devianti, è su quello schermo laggiù. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyber Life. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo... Ok, l'FBI prende in carico l'indagine, siete fuori dal caso. È un piacere, è buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Che testa di cazzo. Sarò nelle vicinanze, se serve qualcosa chiami. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Ok, tenente. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati. E adesso è il momento di renderci liberi. Credi si tratti di R-A9? I devianti credono che R-A9 li libererà. Questo androide sembra della stessa idea.